Siamo al Palazzo del Podestà a Montevarchi e da pochi minuti sono arrivate le prime opere qua a Montevarchi. È forte l'emozione, tra queste una tavola anche del Botticelli, che sarà la protagonista della mostra Botticelli della Robbia Cigoli. Sono in tutto dieci le tavole che arriveranno qua a Montevarchi. Noi con la nostra troupe abbiamo seguito le fasi di raccolta nel territorio della Toscana di queste opere, di alcune di queste, e oggi sono arrivate qua al Palazzo della Podestà. Arrivate sono in questa fase che vengono proprio tolte dai loro imballi per il trasporto ed è forte l'emozione che abbiamo vissuto qua all'interno del Palazzo insieme ai curatori della mostra, agli amministratori di Montevarchi. Sono di fatti due secoli che la pala del Botticelli ha lasciato Montevarchi ed oggi per la prima volta, dopo quasi 200 anni, ritorna nel territorio. Quindi da sabato il Palazzo aprirà le sue porte e attende tutti i montevarchini per questo grande evento e anche il territorio e tanti turisti che potranno venire ad apprezzare questa mostra importante. Uno degli eventi principali dell'ultimo decennio sicuramente in Val D'Arno.